Ricapitoliamo. Ingresso indipendente, ampio giardino, taverna, due camere da letto, due bagni e tutto questo a meno di 250.000 euro? Ciao, sono Alan di Garone Immobiliare e oggi ti accompagno a visitare questo appartamento in vendita in Borgo. L'appartamento è recente perché è stato costruito nel 2006 e attualmente è disposto in questa maniera. Abbiamo l'ingresso su questa ampia zona giorno da loro utilizzata come cucina perché il soggiorno come vedrete è stato ricavato dalla taverna. Le due camere da letto, una matrimoniale e una tranquillamente doppia, bagno finestrato con box doccia. Ma al piano interrato lì abbiamo la vera sorpresa. Qui ci troviamo all'interrato nella taverna che è stata di vita adesso ad ampio salotto con zona pranzo, zona giochi, e da cui si accede sia al bagno di servizio con aspiratore e vasca, sia la zona lavanderia collegata al garage. Sono certo che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!